Ben ritrovati in un nuovo appuntamento con le 100 cose per cui vale la pena di leggere One Piece e oggi insieme a voi mi piaceva un attimo raccontarvi un'altra delle mie splash page preferite, un'altra delle mie tavole predilette del mondo di One Piece che questa volta racchiude un po' tutta la filosofia di ciò che abbiamo visto in quel di Wano Kuni, in quel di Onigashima, ma soprattutto ciò che abbiamo visto in tutto il post-timeskip, ovvero l'essenza vera, l'essenza seria dei vecchi contro i giovani, della nuova generazione che si contrappone alla generazione degli imperatori. E una delle mie tavole preferite per l'appunto è quella che noi vediamo nel capitolo 1000 dove finalmente una volta per tutte si scontrano Kaido, Big Mom e i giovani della nuova generazione, i giovani della generazione terribile, perché c'è quella scena fantastica, bellissima, meravigliosa con Kid, Law, Killer, Zoro e Rufi che fronteggiano gli imperatori perché loro sono andati là apposta, sono andati su Onigashima con lo scopo di abbattere gli imperatori e quindi una volta per tutte dare l'avvio, dare l'inizio di una nuova era, l'era della pirateria diciamo così 2.0 e questa doppia splash page mi piace perché è quella che dal mio punto di vista meglio rappresenta proprio questo topic, meglio rappresenta questo voler cercare, dimostrare che sì, è venuto il tempo per i nuovi, per i giovani, di uscire lì fuori e prendersi il mondo, un mondo che per oltre 20 anni è rimasto chiuso, è rimasto, come dire, quasi ostaggio di uno status quo che non ha accettato di cambiare, uno status quo che davvero per tanti anni ha cercato di preservare se stesso, tarpando sul serio le ali di quelli della nuova generazione, però adesso è venuto il momento di prendersi tutto, di prendersi il mondo e secondo me questa tavola veramente bellissima dà proprio l'essenza, dà proprio l'idea di questo scontro, oltre che fisico, oltre che ideologico, perché ognuno dei pirati che noi vediamo in questa doppia splash page è lì per un motivo ben preciso, però ecco, oltre che fisico, oltre che ideologico è anche davvero morale e generazionale, e la maniera in cui Leiciroda la disegna davvero carpisce il tutto, vederli proprio uno di fronte all'altro, vedere proprio da una parte i giovani baldanzosi ma allo stesso tempo intimoriti dalla potenza, dalla presenza, anche dalla leggenda, in questo caso, di Kaido e di Big Mom, perché nonostante tutto essere lì ai vertici della pirateria significa sul serio contare qualcosa, significa sul serio aver fatto nel bene o nel male la storia del mondo di One Piece, e però, e però, e però, vediamo che nelle espressioni un kid incazzato, un Rufi che è lì pronto all'azione ma che è ancora un momento titubante, e poi ci sono gli imperatori, gli imperatori che forse non vedevano l'ora, anche l'oro, di essere messi alla prova dopo così tanto tempo, perché le espressioni di Kaido e di Big Mom da questo punto di vista sono davvero emblematiche, Big Mom quasi non vede l'ora di fronteggiare questi mocciosi, anche Kaido non vede l'ora di vedere di che pasta sono fatti questi giovanotti che sono lì davanti a loro e che idealmente vorrebbero prendere il loro posto, e questo è davvero sul serio, una delle mie tavole preferite in assoluto di tutto One Piece, perché c'è un mondo, c'è un universo, poi a prescindere o meno da come le cose sono andate a finire, per quanto scontate, ecco diciamolo così, perché poi quando parliamo di Shonen soprattutto quando parliamo di Battle Manga, sappiamo che si devono per forza di cose arrivati a un certo punto incuneare in qualcosa che sappiamo già avverrà e sarebbe avvenuto, ovvero la sconfitta in questo caso degli imperatori da parte della nuova generazione, però è davvero una tavola eccellente che dà il polso e il misuro anche di tutto quello che abbiamo visto seriamente nel post time skip di One Piece. Ad ogni modo fatemi sapere voi che cosa ne pensate lasciandomi il sempiterno commentino qui sotto su YouTube, sulla mia pagina Instagram Somobuta, altrimenti noi ci vediamo tra poco, oggi è lunedì, quindi lo sapete alle ore 21, c'è One Piece Deep con il re, quindi magari vedetevi questo videino come antipasto alle 8 e poi alle 9 venite su Twitch per discutere del capitolo 1054 di One Piece, altrimenti noi ci rivediamo per un nuovo appuntamento con un'altra delle 100 cose per cui vale la pena di leggere One Piece. Alla prossima, ciao!